questo era previsto non lo so non farci ammazzare non sei divertente pronta attenta magnifico che sceva mi fulmini non stavo per dirlo io a no no va bene penso che andrà tutto bene bene dove diavolo è la zanna non lo so tutto questo non ha alcun senso via ce l'ha io e sala vogliono farci girare a vuoto forse hai ragione ottimo no stammi a sentire che nasce il simbolo di alevitù e sciva era il simbolo di belù che poi era l'antica capitale esatto forse il re fece costruire questa città sontuosa per offrire ai persiani un magnifico bersaglio e la capitale antica fu dimenticata quindi questa città era un'esca e se la fecero saccheggiare per proteggere belur e il tesoro potrei scommettere che la zanna non è mai stata qui mai e dov'è belur oh merda questo invece non era affatto previsto città non ma pure non ma 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 C'è l'ho fatta! Tu vedi i cari, fatta! Tu vedi i cari, fatta! Continua! Cazzo! Presa! Ho un amore! Ora! Stai bene? Com'è che siamo ancora a vivere? Puro talento. E un pizzico di fortuna. Ehi! Bel lavoro, socia. Bel lavoro. Qua la mano. Cazzo! E questo cos'era? Dovresti vergognarti in eterno, sai? Ehi! Correggimi se sbaglio, ma... E qui non c'era un'enorme cascata? Sì, c'era. E quello che diavolo è? Un acquedotto. È attraversato dall'acqua delle cascate. Fantastico. È da merito nostro, vero? Beh... Tecnicamente è mio. Strazzetta. Senti, scusa se prima sono stata poco delicata. Ah. Tranquilla. Sai, voi due saresti andati parecchio d'accordo. Anche lui era un bastardo con la testa dura. Senti, è difficile che nessuno si sia accorto di nulla. Dovremmo andarcene. Hai ragione. Seguimi. Ok. L'acqua viene convogliata verso il cancello. Dobbiamo seguire l'acquedotto. Ricevuto. Prendo posizione. Grazie. Grazie. Non.